Grazie, sono vestito così in pigiama ed è mezzogiorno perché praticamente adesso vado a pattinare con i miei amici Ci vediamo lì Ciao Bomber, sono con Franky Saluta, siamo al pattinaggio, mi dispiace che non è uscito con l'impiscina ma ce l'ha funzionata Raga, io ho rubato l'arocchio a tuo vento Salutate Ciao Youtube Oh, oh, lo devo fare, senti Ciao e 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 il canale che è già passato tanto perché lo metterò il 27 se ci siete arrivati a 50 iscritti vedrà un biscotto è un po' un goccio vorresti dare ah iscrivetevi al mio canale che trovate in descrizione franking02 non so come si fa come non sai come si fa lo faccio io in descrizione trovate il suo canale franking02 sei franking02 iscrivetevi al mio no ciao franking bella anche franking02 e e sei su youtube quando la taglio quella parte se 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 lei se lei fa un canale youtube censuratele se la lascio addosio no è di riccardo non puoi abbiamo finito il pallaghiaccio tanto lo sai che l'avete abbiamo abbiamo finito il pallaghiaccio e si divertita si si sono andati via tutti ci hanno fatto rimanere soli ciao ciao sono con e i i i i i i i i ahhh attaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack vedi te 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 faccio io ecco così te 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 nooo Grazie a tutti.